leo e la lettera s siamo nel parco giochi e lui è lifty sta mettendo le sfere con le lettere disegnate sopra al loro posto che lettera è nella sfera verde e la lettera d guarda chi sta arrivando il camion leo leo hai bisogno di lettere per comporre una nuova parola sarà lifty a dartele lifty sai quali servono leo ti ha detto quali servono sono tutte leo grazie lifty andiamo a comporre una parola eccoci pronti leo che parola vuoi comporre s i d e che in inglese si legge side che significa lato leo ha costruito la parola inglese era questa la parola che volevi comporre no ecco ora abbiamo la parola inglese slide che significa scivolo come lo scivolo nel parco giochi guarda sta arrivando un elicottero ed ecco lo scivolo giochiamo con lo scivolo fantastico buon divertimento ciao lifty ciao lao a presto ciao lao a presto ciao lao a presto ciao lao a presto